Grazie a tutti. Siamo con Giacomo Barbieri, Giacomo quali sono i brani che ci presenterai stasera? Il primo che eseguiremo si intitola Lumache e parla della vita altrove. Il secondo si intitola Studia e parla di una ragazza che studia troppo i libri e non studia a me, che sono di fianco. Il terzo si intitola Moscerino e parla di quando il moscerino ti entra nell'occhio, che ti dà fastidio e provi a mandartelo via sfregandoti. In realtà devi solo aspettare che la lacrima lo faccia andare via, che il tempo ti... Lo porti via. Esatto. Cosa ti aspetti dal Festival di Musicultura? Beh, non lo so, sinceramente di piacere, di essere apprezzato, di farmi capire, perché bene o male credo che fai conto che la canzone è una lingua mia e spero che chi mi ascolta in quel momento riesca a capirmi.